Ah, oggi cosa faccio per il mio video? Che spiega? Lei ha già mi inviato questo pacco Ma l'hai già aperto? No, ah sì Eeeh, non lo so, sì Lei già è aperto Perché volevo scoprire che cosa c'era Ma ho pensato E sì, sì, ho solo aperto Non so che cosa c'è dentro E per tutti i casi questo è un video di bombe per sé E oggi facciamo un nuovo Scopering dei nostri fan E sì, ragazzi Allora, qua vi faccio vedere Qua che è vero Per leggere i fai così non vi faccio vedere Perché è Non è lì Siamo pronti? Tre Allora, tiriamo gli occhi e facciamo vedere Solo la telecamera Va bene, vale Perciò di tre Giriamo Tre Due Uno Dio Non c'è niente Cosa c'è? Non vedo Pardon Oh cacchio Oh cacchio Oh cacchio Oddio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Ci sono pure controller Ci sono pure controller Che ci serviva Due controller Che ne avevamo solo uno Uno nero e uno rosso E da Ma che fan abbiamo? Io non ci credo Guarda che ci vanno bene anche usati ai giochi Io non ci credo Siediamo i giochi Le guardiamo Le guardiamo Madrona mia Controller rosso No ma io non ci credo ancora Controller rosso normale Normalissimo Poi Altro controller Nero Poi Battlefront Star Wars Molto bello Prima vediamo se ci sono Prank Ci sono Sì Allora questo è Oh lo scontrino Vabbè ce lo teniamo Knack Che poi magari se noi troviamo non so un minecraft Se c'è un minecraft magari scrivete in descrizione E gli ultimi messaggi che mi arrivano vi regalo minecraft per un ps4 Ah infatti è minecraft Vediamo se c'è Sì c'è minecraft Poi Call of Duty Infinity Warfare Vabbè tanto io ce l'ho Ci hanno scritto però un pacco fake Ci hanno preso per il culo Comunque Io ce l'ho Facciamo così Pass The Last of Che class Come si legge? The Last of Us Io ce l'ho Questo è bellissimo The Last of Us C'è? Questo è fighissimo Perché ce l'ha Per chi l'ha giocato con me C'è Deve Poi Mafia 3 Bellissimo Niente c'è Non c'è mafia Ma che palle Assassin's Creed Ora non c'è Ok c'è Vai vediamo se c'è nemmeno Pest C'è Sì ci sei Pest Poi Titanfall 2 C'è E questo è Mass Mass Effect Andromeda E c'è Ragazzi io Vi voglio rinunciare Sono 10 Io non C'è Non dico niente Ragazzi Copiediamo il video Bella